vi premetto subito che questo sarà un video piuttosto corposo quindi ho cercato di organizzarlo facendolo il mio meglio e l'ho addirittura suddiviso con un indice che vi presenterò tra un attimo perché davvero parlare del partenone equivale a dire parlare non soltanto di un pezzo di storia dell'antichità greca quindi della nostra storia da cui noi proveniamo ma equivale anche a parlare di simboli e di un edificio che ha attraversato la storia della cultura occidentale allora il partenone io ho titolato in questo video il più grande tempio della classicità stiamo parlando quindi siamo entrati a parlare del periodo classico della grecia quel periodo che ha due date definite come inizio e come fine il 480 avanti cristo la vittoria degli ateniesi dei greci riuniti contro l'impero persiano di serse e inizia lì e si conclude nel 323 avanti cristo con la morte di alessandro magno cominciamo allora a capire un po come sarà strutturato questo video allora innanzitutto ecco qui il nostro indice dei lavori vi faccio un'introduzione prima di tutto spiegandovi che cos'è il concetto di classicità e vi parlerò di questo esperimento di democrazia che verrà attuato ad atene durante l'epoca classica vi parlerò della ricostruzione del tempio dedicato ad atena voluta da pericle quello che voi vedete il nostro partenone vi racconterò le sue caratteristiche analizzeremo la forma della pianta vi parlerò delle correzioni ottiche impiegate per ottenere l'effetto di perfezione parleremo delle proporzioni particolari di questo edificio degli ordini architettonici con i quali è stato realizzato poi vi farò un escursus per raccontarvi come è arrivato fino a noi in queste condizioni che già adesso intravedete particolarmente danneggiato nonostante appunto risalga al quinto secolo avanti cristo quindi ne ha ben motivo e concluderemo poi questo lungo percorso parlando della decorazione scultorea vedrete che il partenone è molto decorato quindi ho organizzato una serie di immagini per guidarvi e nello scoprire anche questa parte importantissima allora cominciamo con il discorso diciamo che per forza di cose dobbiamo parlare dell'epoca classica quindi dell'epoca che coincide con la figura di pericle come governatore di atene perché è così importante parlare appunto della classicità perché abbiamo ancora adesso in mente questa idea di classicità perché ad atene in particolare si è fatto proprio questo esperimento di democrazia era una democrazia con partecipazione diretta dei cittadini non c'era un meccanismo elettorale ma i cittadini che ne avevano il diritto venivano impiegati nelle cariche politiche pubbliche non per elezione ma a rotazione perché questo ragioniamoci un attimo perché pensateci se una persona ha un buon eloquio una grande capacità fabulatoria riesce a raccontare bene le cose le mette giù molto bene ed è ricco e quindi può intraprendere una buona campagna elettorale questo vale ancora oggi anzi vale molto di più oggi ecco ha sicuramente maggiori possibilità di essere eletto questo era il motivo per cui in realtà invece si provvedeva con una sorta di rotazione tra i cittadini erano soltanto pochi quelli che erano in realtà votati ma erano scelti tra le persone che avevano particolari abilità per coprire quelle determinate posizioni sempre legato a quello che dicevamo ne abbiamo già parlato quando io vi leggevo in parte gli estratti raccontati da tucili del discorso funebre pronunciato da pericle all'inizio della guerra del peloponneso pericle per farvi capire verrà rieletto qualcosa come 15 volte a governatore di atene sarà governatore di atene dal 461 al 429 avanti cristo tenete presente che lui nasce nel 495 e muore nel 429 avanti cristo vuol dire che la sua storia la sua vita davvero dedicata al governo ma anche era un militare un generale quindi davvero al a intraprendere la politica anche militare di atene però parlavo prima di una sorta di esperimento di democrazia perché soltanto quelli che potevano essere considerati cittadini potevano prendere parte alla vita democratica democrazia il potere del popolo ma soltanto pochi ad atene erano considerati cittadini pensate che su un tre o quattrocentomila abitanti che sono stati calcolati per l'epoca di pericle appunto soltanto cinquantamila persone erano considerate veri e propri cittadini pensate dovevano essere innanzitutto uomini non dovevano essere donne evidentemente non dovevano essere stranieri non dovevano essere schiavi e dovevano essere ateniesi entrambi i genitori quindi davvero c'era un'idea molto ristretta quando noi parliamo di esperimento democratico non possiamo aspettarci che ad atene nel quinto secolo avanti cristo si davvero si praticasse una democrazia che è così simile invece a quella che abbiamo in mente noi oggi dei nostri giorni però è stato una prima volta così importante anche perché qui vi ho inserito queste ostraca che cos'erano questi frammenti di ceramica su cui vedete che sono incisi dei nomi là in alto il primo vedete che dice proprio pericles pericle questi ostracon erano in realtà questi frammenti che permettevano a chi faceva politica di segnalare chi secondo lui usurpava il potere e veniva quindi ostracizzato veniva ostacolato veniva tenuto d'occhio come dire perché appunto veniva segnalato in modo tale che non esagerasse ecco nel museo dell'agora di atene abbiamo tantissime di queste testimonianze molto curioso e molto affascinanti per noi davvero ci danno un po' l'idea di questa testimonianza di questo esperimento democratico ora cerchiamo allora di capire perché il partenone è così importante davvero è stato un po' eletto a livello internazionale della storia da sempre come simbolo della democrazia perché davvero viene a coincidere con il periodo di maggiore splendore per la grecia e quindi in realtà per la cultura occidentale simbolo della democrazia simbolo della perfezione cerchiamo allora di capire che cosa intendiamo quando parliamo del classico proprio come concetto il classico la misura della bellezza ho inserito questo titolo proprio facendovi tornare in mente ciò che abbiamo già detto a proposito della razionalità a proposito della no del conoscere la misura della giusta misura che erano i grandi principi che permeavano la cultura classica in particolare quindi quando noi ancora oggi pensiamo a qualcosa di classico pensiamo a qualcosa che è sicuramente razionale misurato che è perfetto che ha grandi elementi di geometria di rigore di equilibrio di armonia in grecia voleva dire conoscere le regole e saperle applicare la famosa tecne no di cui abbiamo più volte parlato ma pensateci ancora oggi quando parliamo di classico quando diciamo qualcosa è un classico ecco intendiamo riferirci a un risultato ho parlato di risultato in senso generico a un qualcosa un oggetto uno stile che sfida il tempo e continua a essere considerato di valore qualcosa che resta immutato e considerato valido bello interessante nel tempo vale lo usiamo ancora oggi molto spesso per qualunque ambito pensate è un brano di musica che può essere considerato un classico un libro che può essere considerato un classico è un comportamento un atteggiamento insomma di tutte di più questo è il nostro modo di considerare ma in realtà stiamo parlando della grecia quindi l'idea di bellezza che è ancora oggi un punto di riferimento quello che noi abbiamo in mente oggi quando pensiamo all'idea della bellezza è ancora o risente ancora fortemente della scelta che è stata fatta attuata durante l'epoca della classicità in grecia ecco allora la nostra idea di bellezza la bellezza che l'idea di bellezza che avevano i greci nell'epoca classica risente di queste regole misure che erano ricordo ancora una volta lo specchio della razionalità e vi ricordo ancora questo bello e buono kalos kai agazzos non c'era distinzione tra la valenza morale e ciò che l'occhio vedeva le due cose dovevano per forza coincidere una perfezione realizzata in pietra in marmo pentelico il partenone esprimeva perfettamente la grande cultura dell'atene di quegli anni ed è infatti diventato il partenone una sorta di modello che ha attraversato la storia qui vi ho provato a mettere una carrellata di esempi che davvero sono in qualche modo direttamente o indirettamente debitori del modello del partenone questo è un tempio del primo secolo dopo cristo quindi un tempio romano che troviamo in francia poi vi ho inserito il british museum di londra vedrete scoprirete che c'è un fortissimo legame tra il british museum di londra e la storia del partenone quello ve lo racconterò tra poco vi ho messo poi la chiesa della madeleine a parigi siamo passati dall'epoca classica all'epoca neoclassica 1800 inizio dell'ottocento quando il punto di riferimento torna a essere fortemente la classicità greca e romana e ancora un salto al di là dell'oceano vi faccio vedere il jefferson memorial di washington dc e ancora la national gallery sempre di washington e la corte suprema degli stati uniti guardate se non ho sbagliato a identificare le date di costruzione è stato costruito pochissimo terminato pochissimo tempo fa e guardate sembra ritrovarsi ancora davanti al modello della perfezione del partenone torniamo quindi al nostro edificio lo troviamo in cima all'acropoli di atene lo sappiamo i templi erano edificati nella parte alta e sacra della città più vicino agli dei ma vi devo raccontare bene perché si chiama partenone e da dove deriva la sua storia quindi in realtà esisteva già un precedente tempio dedicato alla dea atena sull'acropoli perché la dea atena secondo quello che ci racconta apollo d'oro aveva aveva vinto una sorta di di atriba nei confronti di poseidone per essere per diventare la dea protettrice e quindi avere il possesso della città di atene e quindi dell'attica appollo d'oro ci racconta appunto che questo è un frammento di un anzi questo è un vaso che ci racconta la storia poseidone e atena vedete che si fronteggiano ma appollo d'oro ci racconta che poseidone il dio del mare avrebbe colpito una roccia nella sua acropoli di atene da cui sarebbe sgorgata direttamente l'acqua del mare e questo equivaleva a promettere agli ateniesi di avere una flotta navale con grande superiorità su tutti gli altri quindi molto importante era come dono da parte di poseidone per una città che aveva che basava il suo potere anche sulla flotta navale come in realtà poi si rivela da essere davvero parte della sua storia qui vi sto mostrando un il quello che viene considerato il mitico segno del tridente di poseidone che è stato identificato sul fianco nord dell'eretteo che è uno dei templi costruiti all'epoca appunto di pericle proprio sull'acropoli di atene stessa vi faccio vedere sul fianco stesso dell'eretteo sempre lo stesso tempio vedete che c'è oggi piantato abbastanza di recente un ulivo perché in realtà la dea atena anziché promettere la dea atena che vi ricordo era la dea della saggezza dell'intelligenza ma anche del fare no di quella intelligenza applicata alle tecnai alla capacità ma era anche la dea della guerra stupendo tutti donò alla città di atene un albero di olivo che equivale a che è stato ancora oggi il simbolo che per noi resta equivaleva a promettere prosperità e pace proprio lei che era anche idea se voleva della guerra ma era idea dell'intelligenza della saggezza e quindi questa intelligenza questa saggezza avrebbero guidato atene verso la conquista della gloria tramite la cultura tramite la saggezza la razionalità la pace ed ecco che allora gli ateniesi la sceglieranno proprio per questi motivi e vi dicevo quindi che la dea diventa la protettrice della città di atene e sull'acropoli esisteva un precedente tempio rispetto al partenone costruito in onore della dea ma questo tempio era vedete che di fianco c'è il partenone questo vecchio tempio dedicato ad atena era stato distrutto durante la guerra contro l'impero persiano immaginatevi noi sappiamo che le poleis avevano un'autonomia politica economica ma anche militare ma le poleis greche verranno minacciate e attaccate direttamente dall'impero persiano vi ho messo questa mappa per farvi capire l'imponenza la grandezza e di conseguenza la forza dell'esercito dell'impero persiano guidato prima da dario primo il grande e poi da serse ma era successo qualcosa di incredibile perché gli i greci guidati da atene in particolare avevano sfidato le reciproche differenze delle singole poleis e si erano unite per combattere insieme l'impero persiano tutto questo ha a che fare con le guerre persiane lunghe complesse di cui non vado assolutamente raccontarvi la storia nel nel dettaglio ma cosa succede i nostri vincono contro l'impero persiano e a questo punto la famosa battaglia di salamina del 480 a.c. a questo punto qui si fa partire l'epoca classica perché comincia davvero a affermarsi la supremazia del mondo greco in particolare di atene ed ecco che a questo periodo fa seguito appunto un periodo di pace in cui fioriscono i commerci la scienza la filosofia le arti ovviamente e questo periodo che va dal 460 avanti cristo in realtà la battaglia l'ultima vittoria contro i persiani risale al 479 avanti cristo ma insomma il periodo che va dal 460 al 429 avanti cristo è detto anche età di pericle perché abbiamo detto è lui che governa e quindi che guida la ripresa di atene viene anche chiamato età dell'oro proprio perché c'è questa grande floridità economica e culturale appunto che viene associata a questo momento ed è il momento in cui in realtà non è del tutto vero perché allora cos'era successo era stato distrutto il precedente tempio dedicato alla dea atena gli atenesi avevano fatto un vero e proprio voto giurando che non avrebbero rimosso le macerie e i resti del vecchio tempio dedicato alla loro protettrice ad atena perché volevano mantenere grande forte la memoria di questa guerra che aveva devastato l'acropoli di atene tanto che avevano realizzato quella che oggi viene chiamata la colmata persiana cosa si intende questo grande ammasso di rovine di frammenti di statue un tesoro gigantesco enorme che è stato riscoperto che ci ha permesso di riportare la luce veramente delle testimonianze storico artistiche strepitosamente importanti ma in sostanza questa colmata persiana aveva riempito di terra tutte queste macerie per poterne mantenere intatte la memoria passeranno però un po di decenni arriva il momento di pericle e allora pericle decide di impiegare i soldi che nel frattempo atene custodiva perché nel frattempo era stata creata la famosa del la lega delio attica metteva insieme la città di delo e quella di atene ed altre poleis per continuare con le varie sfide politiche militari navali nei confronti dei nemici esterni e pericle impiegherà il tesoro della lega delio attica che pericle ha costruito niente meno che proprio sull'acropoli di atene per fare ricostruire l'acropoli stessa e lo farà facendo ricostruire i propri lei la porta monumentale di accesso all'acropoli stessa e poi ovviamente il partenone di cui adesso ci occupiamo tra un attimo in modo più dettagliato e poi l'ereteo che vi ho già mostrato un attimo fa almeno nei piccoli frammenti appunto per la storia di Poseidone e Atena allora avete cominciato a capire perché il nostro partenone rappresenti davvero una testimonianza strepitosamente importante oggi però è molto rovinato quindi noi dobbiamo davvero fare un grande sforzo di immaginazione per riuscire a provare a immaginare come dovesse essere in origine vi ricordo sempre molto decorato molto colorato questa è una ricostruzione in cui vediamo anche l'interno la statua gigantesca dedicata alla Dea Atena ovviamente è andata persa perché era fatta in nevorio e oro vi potrete immaginare cominciamo allora con i dati tecnici le date prima di tutto allora Pericle ordinerà la ricostruzione del partenone tra il 447 e il 432 avanti Cristo o meglio il partenone la struttura verrà ricostruito quindi il precedente tempio dedicato ad Atena lasciato perdere il partenone costruito tra il 447 e il 438 avanti Cristo i lavori saranno affidati a tre architetti Ictino, Callicrate e Mnesicle ma scultore e sovrintendente dei lavori sarà Fidia insieme ai suoi aiuti per quanto riguarda la scultura Fidia rivestirà un ruolo fondamentale perché davvero sarà lui che cercherà di garantire un'uniformità d'insieme a tutta la decorazione perché vedrete che ci sarà un'idea chiara guida che dovrà essere portata avanti il committente abbiamo detto sarà Pericle incominciamo a metterci in testa questo termine committente colui che commissiona le opere d'arte da questo momento in poi parleremo sempre di committenti i grandi personaggi che chiedono agli artisti di realizzare le opere d'arte qual era allora il grande soggetto da rappresentare qual era il grande tema che voleva che Pericle voleva che venisse espresso in ogni singolo elemento del tempio era stato eretto per celebrare la vittoria dell'intelligenza sulla forza e la supremazia della democrazia ateniese come modello politico e culturale su tutti gli altri modelli che potevano essere presenti quindi celebrare la vittoria dell'intelligenza sulla forza e qui voleva dire che pensate l'essersi uniti delle poleis contro l'impero persiano aveva rappresentato un modello di intelligenza perché davvero rappresentava sicuramente numericamente erano inferiori eppure riusciranno davvero a vincere grazie a questa loro fiducia nell'intelligenza e anche dicevamo fiducia nel loro modello politico la democrazia allora a cosa dobbiamo questo nome? il partenone deve il suo nome ad Atena Partenos Atena Partenos può essere tradotto come Atena Vergine perché era appunto una dea nubile ma anche al mito della sua creazione perché Atena sarebbe nata secondo il mito per partenogenesi dalla testa di Zeus avevo cercato tempo fa avevo scoperto che ancora alcuni insetti nascono per partenogenesi quindi nascono dalla testa del genitore quindi lasciate perdere secondo il mito Atena era nata dalla testa di Zeus beh insomma la dea della saggezza e dell'intelligenza nata dalla testa del padre degli dei che tipo di tempio è? lo vedremo passo passo a colpo d'occhio avete tutti riconosciuto che è un tempio di ordine dorico adesso analizzeremo meglio la pianta e vedrete che è periptero vedete già la peristesi che gli è ruota tutto intorno ma anche ha un fiprossilo ed è ottastilo perché sul lato breve contiamo otto colonne ne abbiamo 17 sul lato lungo perché questa era la regola era sempre presente sul lato lungo il doppio delle colonne del lato breve più una questa è la regola poi ve la presento in formula matematica la pianta presentava un'ampia cella addirittura divisa in tre navate che custodiva l'agalma di Atena alta 12 metri l'abbiamo intravista prima scolpita da figlia in avorio e oro per questo era detta anche criso elefantina o criselefantina cioè avorio e oro e ovviamente oggi non è arrivata fino a noi le colonne doriche che voi vedete erano più slanciate dei normali templi dorici che abbiamo già incontrato nell'epoca arcaica vi ricorderete che la proporzione tra la base della colonna e la sua altezza nell'epoca arcaica era 1 a 4 1 a 5 in questo caso la proporzione era spostata a 1 a 5 e 48 ma la pianta è particolare perché oltre alla cella e al pronao c'era una sala del tesoro a cui si accedeva dall'opistodomo quindi qui abbiamo un elemento in più perché davvero abbiamo visto che rivestiva il partenone anche un ruolo come dire importante e politico anche per questo dire il tesoro ecco qui il pronao di dimensioni piuttosto strette come vedete ecco la cella suddivisa in tre navate con una doppia fila di colonne vi lo faccio vedere tra un attimo e qui eccola la sala del tesoro con quattro colonne guardatele ne parleremo anche qui tra un attimo e di nuovo l'opistonomo vi ho inserito anche la presenza delle otto colonne e delle diciassette sul lato lungo otto sul corto diciassette sul lungo qui vedevate la vecchia struttura del vecchio tempio dedicato ad Atena e invece in verde appunto la struttura del partenone voluto da Pericle qui vedete la ricostruzione della statua di Atena ci troviamo quindi nella cella vedete che la cella era suddivisa in tre navate da questa presenza di un colonnato su due livelli di ordine dorico lo vedete qui vedete la ricostruzione fatta a Nashville in Tennessee quindi è davvero un po' pacchiano come effetto ma insomma immaginatevi come doveva essere davvero l'originale di 12 metri in avorio e oro ancora il nostro Ictino uno dei tre architetti coinvolti era un matematico ma in Grecia questa disciplina era considerata uno strumento per comprendere il divino e allora la perfezione era davvero possibile da ottenere correggendo matematicamente i difetti della vista umana con dei piccoli scarti dinamici in particolare ve li mostrerò uno a uno tra poco l'entasi delle colonne era più evidente lo stilobate su cui appoggiavano era leggermente convesso cioè ai lati era leggermente più basso in modo anche per far scorrere via la pioggia le colonne che vedete della peristasi erano tutte leggermente inclinate verso il centro per evitare l'effetto di come dire di caduta verso chi le guardava da sotto di pendenza verso l'esterno in più le colonne angolari erano messe più vicine delle altre proprio per creare un effetto di maggiore armonia e le metope del fregio dorico che già intravedete quelle angolari erano più strette per permettere un effetto complessivo più corretto vi parlavo prima di queste 8 per 17 colonne eccola qui la formula matematica x cioè il numero di colonne da impiegare nella peristasi era uguale a 2y y era il numero delle colonne sul lato breve e quindi 2y più 1 quindi abbiamo già detto il doppio delle colonne del lato breve più 1 nel partenone poi il rapporto proporzionale tenuto in considerazione era 4 a 9 che teneva in considerazione la dimensione della colonna alla base e l'intercolumnio 4 era la dimensione della colonna alla base 9 la proporzione della distanza dell'intercolumnio vi mostro tutto questo in questa slide allora ho esagerato con l'effetto ma vedete che l'entasi delle colonne è abbiamo detto circa un terzo d'altezza più evidente vi ho indicato anche in questo caso in modo un po' esagerato dovete sempre usare un po' la immaginazione si sarebbe visto meglio sul lato lungo ma non ho trovato un'immagine che mi aiutasse in tal senso e poi mi serviva questa con i frontoni lo stilobate dicevamo leggermente convesso e poi vi ho parlato delle colonne che sono inclinate tutte non solo quelle che ho indicato qui verso l'interno leggermente e poi vi ho anche detto che le colonne angolari guardate la distanza delle colonne angolari sono più vicine rispetto alle altre quindi l'intercolugno delle due colonne angolari è minore rispetto l'intercolugno delle altre colonne ancora vi ho detto che le metope angolari sono più strette questo perché per regola noi sappiamo che il triglifo doveva cadere a strapiombo con la metà della colonna e allora se c'erano bisognava correggere e siccome i triglifi erano sempre angolari occorreva correggere per quanto di poco questa dimensione per ottenere l'effetto di perfezione finale ecco qui 4 la colonna alla base 9 il rapporto dell'intercolumnio ma anche 4 la dimensione della lunghezza alla base 9 la dimensione dell'altezza complessiva tenendo presente anche l'altezza del frontone che qui è spezzato quindi non abbiamo il punto del vertice come dire le mie sono approssimazioni vi ho inserito anche questa suggestione cioè molti storici dell'arte non tutti concordano ma molti storici dell'arte propongono un'ipotesi che il partenone tra le grandi regole matematiche che impiegava avesse tenuto conto anche della cosiddetta sezione aurea in inglese è ancora più bello che si chiama the golden ratio cioè la razionalità d'oro una serie di calcoli matematici magari vi farò un video a parte dedicato proprio al riconoscimento della proporzione corretta che esiste tra le parti di un segmento se il segmento è aureo c'è un rapporto matematico fisso che ha a che fare con phi un numero 1, 6, 18 eccetera eccetera che phi tra l'altro è l'iniziale di phi di A quindi davvero c'è un legame di questo tipo la sezione aurea è molto interessante come argomento anche perché in natura moltissimi organismi vegetali ma anche animali rispecchiano queste proporzioni matematiche noi addirittura riconosciamo la bellezza di un volto e senza rendercene conto se ci mettiamo lì e facciamo il disegno vengono fuori evidentemente i rettangoli aurei lo stesso Leonardo da Vinci disegnerà i volti impiegando la proporzione aurea quindi davvero stiamo parlando di qualcosa di molto molto interessante non è certo l'impiego della sezione aurea per il partenone ma diciamo che ci assomiglia molto ecco in questa foto la mia foto vedete che è un po' disassata quindi è difficile far coincidere il tutto ma abbiate pazienza ancora vi dicevo il partenone in che ordine architettonico era costruito abbiamo detto grosso modo dorico ma perché grosso modo perché il partenone era simbolo di vittoria e pace non soltanto per Atene ma per tutta la Grecia certo si voleva celebrare Atene in particolare e quindi viene realizzato anche per questo motivo con diversi ordini architettonici che erano un po' tipici di tutti i tempi e un po' di tutti i luoghi geografici diversi che avevano partecipato alla vittoria contro i persiani in particolare vedete che è realizzato con ordine dorico per la peristasi le colonne del pronao e dell'opistodomo che vi ho indicato prima ma anche il doppio ordine delle colonne della cella e su questo non ci piove quindi è dorica la peristasi vuol dire non solo le colonne ma anche l'architrave anche la trabeazione sia il capitello che la trabeazione tutto per quanto riguarda la peristasi ma è ionico invece il fregio che corre intorno al naos fregio che troviamo in corrispondenza del pronao e dell'opistodomo ed è sono ioniche anche le quattro colonne della sala del tesoro che vi avevo segnalato prima adesso vi faccio vedere meglio ora prima di mostrarvi tutto questo vorrei citarvi alcuni personaggi ciò che si è detto di questo strepitoso edificio nel tempo forse interromperò il video davvero farlo tutto insieme è troppo magari la decorazione ve la metto dopo ma intanto produce un'impressione straordinaria sui visitatori a dire questa frase è stato eraclide di creta siamo nel terzo secolo avanti cristo quindi siamo ancora nell'epoca in cui era fresca come dire la costruzione di questo tempio il meraviglioso tempio della dea atena opera divina di fidia a dire questa frase a pronunciare a scrivere questa frase è stato ciriaco d'Ancona siamo nell'epoca del rinascimento quattrocentesco è il più incomparabile trionfo di scultura di architettura che il mondo abbia mai visto lo dirà Edward Odwell che dedicherà una serie di dipinti a questo monumento nell'epoca in cui appunto nell'epoca neoclassica sarà interessante la riscoperta della classicità sembra che debba sopravvivere al mondo intero in realtà questa citazione di Virginia Woolf molto bella molto interessante era soltanto una impressione davvero perché vedrete tra poco vi racconto il nostro partenone subirà una storia molto drammatica e ancora concludo le citazioni raccontandovi quella di niente meno che l'architetto le Corbusier colui che ristudierà le proporzioni della matematica applicata all'architettura è una pura creazione dello spirito per farvi capire davvero come questo monumento abbia attraversato la storia segnando tempi diversi ma sempre mantenendo il suo valore di simbolo di perfezione però vi dicevo nella storia il nostro tempio ha subito diversi rimaneggiamenti come è arrivato fino a noi ma la sua storia è molto curiosa perché potrebbe anche essere vista come un grande episodio di confronto tra culture e religioni e sì perché se il nostro tempio dedicato alla dea pagana Atena era stato costruito appunto tra il 447 e il 432 alla conclusione delle decorazioni ecco quando si arriverà al 590 dopo Cristo il partenone verrà convertito in una chiesa cristiana dedicata alla Madonna dai bizantini qui cominciano i primi rimaneggiamenti alcune delle metope che decoravano il fregio esterno verranno in parte eliminate cambiate ma la storia diventa ancora più complicata quando dopo la conquista turca di Atene dal del 1456 il partenone pensate fu convertito in una moschea con l'aggiunta di un minaretto sul tetto ho trovato un'immagine che vi faccio vedere dopo e ancora il vero e proprio dramma si consuma qui il 26 di settembre del 1687 l'esercito dei veneziani tenta un assedio di Atene per che era ancora in mano all'impero ottomano e cosa succede il partenone viene colpito da un colpo di cannone sparato dai veneziani ma in quel momento il partenone era usato come deposito per la polvere da sparo immaginate il disastro se il partenone è così tanto rovinato si deve a questo colpo di cannone veneziano sparato inconsapevolmente ma insomma le guerre provocano sempre dei danni tremendi quindi in realtà la consapevolezza c'è fino lì era un modo però per cacciare i turchi come dire e conquistare da parte di Atene tutto questo però servirà ben poco perché i veneziani avranno una vita molto breve ad Atene che sarà di nuovo riconquistata dagli ottomani e verrà ricostruita un'altra piccola moschea tra le rovine ve la mostrerò tra poco ma la storia del nostro partenone si conclude così nel 1799 Thomas Bruce settimo conte di Elgin chiamato comunemente Lord Elgin rimuoverà alcune delle sculture rimanenti dei frontoni e del fregio d'orico esterno e le porterà in Inghilterra arriveranno in Inghilterra nel 1810 queste sculture che oggi sono conosciute come i marmi di Lord Elgin sono tuttora in mostra al British Museum perché il British Museum li acquistò per conto del governo inglese nel 1816 ecco questo è davvero una storia lunga tortuosa complessa che vi fa capire come talvolta gli monumenti siano anche rappresentazione della storia della stratificazione questa è un'immagine non di grande qualità che però vi mostra irriconoscibile il nostro tempio con il minareto sul tetto quindi qua era stato trasformato dagli ottomani in una moschea questo è un dipinto di una collezione privata ma decisamente interessante perché ci mostra un'altra piccola moschea costruita sulle rovine del Partenone dopo il 1715 quindi davvero nel corso della storia guardate qui quindi era stata era ancora abbastanza recente la cannonata dei veneziani e vedete il Partenone era quasi completamente demolito qui invece vedete ho trovato questo dipinto che ci mostra la rimozione dei marmi dei frontoni da parte di Lord Elgin 1801 quindi davvero fresca invece la deturpazione moderna dei marmi perfetto io direi che possiamo sospendere di rimozio